Il lago di Candia ha una rilevanza importante sia dal punto di vista culturale che storico per la comunità di Mazzè. Dal punto di vista ambientale è un lago che ha delle caratteristiche di delicatezza e di fragilità importanti. L'obiettivo è stato quello negli anni di preservare queste caratteristiche e di conciliare i diversi usi del lago. La cosa più complessa che abbiamo riscontrato in questi anni è stato proprio riuscire a mettere insieme tutti questi attori e ad ottenere delle situazioni di tolleranza tra tutti quelli che agiscono sul lago. Questo ha comportato delle situazioni anche di tensione che abbiamo superato e in questo momento devo dire che sono soddisfatto sia dal punto di vista del risultato sia dal punto di vista degli obiettivi che ci stiamo prefigurando per il prossimo futuro. È importante continuare a investire su questo parco e questo purtroppo è il lato un po' più dolente perché in questo momento le varie istituzioni non stanno avendo delle risorse sufficienti ma l'obiettivo è proprio quello di continuare.